buongiorno a tutti eccoci in questo nuovissimo video allora cos'è questo mi è arrivata questa busta gli amici di babbo natale della pasta magica che è delle poste italiane come vediamo qui praticamente sul sito delle poste ho trovato un link dove compilando con i tuoi dati io l'ho fatto arrivare per la mia bambina infatti qua sotto ci sono i dati è arrivato questa busta contenente contenente la letra di babbo natale quindi andiamo subito a vedere che cosa c'è all'interno della busta allora all'interno c'è tutto questa roba qui aspettate ecco qua allora vediamo c'è questo foglietto con scritto esibisci subito il tuo distintivo che è questo questo qui che ci ha andato anche così chiede ai tuoi genitori di applicarlo su una tua maglietta con il ferro da stiro ben caldo basta poco e gioco è fatto e poi qui vi spiega come applicarlo sulla maglietta quindi questo qui è il distintivo degli amici di babbo natale da applicare sulla maglietta molto molto bello fatto molto molto bene e poi abbiamo la nostra lettera di babbo natale guardate che carino e ci dice ciao sono babbo natale grazie per avermi scritto sono sempre contenta di leggere letterine speciali come la tua la post di babbo natale è il modo più bello per conoscere i tuoi sogni i desideri e gli amici con cui condividere i momenti più divertenti pensa un po la mia migliore amica è matilda una simpatica renna dal naso viola matilda è partita per una missione speciale per salvare tante specie animali a rischio di distinzione è un bellissimo gesto ma senza direi non riuscirò a continuare tutti i regali in tempo per natale perché dovrei fare il giro del mondo a piedi per questo ho bisogno di te aiuta aiuta me e matilda a salvare i nostri amici scaricando il gioco con l'appo gli amici babbo natale così matilda tornerà in tempo per traimare traimare la mia slitta potrà aiutare bang l'orso polare a raggiungere la sua la sua casa flip la tigra tornando alla sua giunga e l'elefante cercare l'osi d'acqua nel deserto senza dimenticarti di sfuggire di fuggire tino il delfino da un mare di plastica aiutare will winston il pinguino a riunirsi con la sua famiglia completando le missioni salverai animali e dimostrerai di essere un vero amico di babbo natale in questa posta speciale in cui hai sbirciato troverai il distintivo di appartenenza alla squadra di babbo natale questo e tanti adesivi con cui giocare e divertirti come sai amici si aiutano sempre adesso tocca a te io e il naso viola di matilda vogliamo proprio vedere come te la cavi ho 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 babbo natale vabbè poi ci dice per qualsiasi cosa guarda il sito eccetera eccetera quindi molto carina come idea se vi va scaricheremo insieme questa applicazione e ci giocheremo insieme ora vi mostro gli adesivi che erano all'interno tutti gli adesivi che ci sono all'interno questa con tutti i nostri animaletti e tutti i pacchettini i regalini le palline di natale campanelline e qui uguali ci sono tutti questi adesivi sono davvero tanti e molto belli tutti regalati ovviamente dal nostro amico babbo natale e tutto questo è gratuito basta solo completare le opzioni che vi lasciano nel sito e vi arriverà a casa la busta degli amici di babbo natale per per farlo anche voi ve lo lascio il link nell'info box io spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente se vi è piaciuto avete qualche domanda scrivetemelo qua sotto in un commentino e ovviamente se questo video vi è piaciuto lasciate tanti like iscrivetevi al mio canale per venire sempre aggiornati su tutti i miei video io vi mando un bacio un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao